A partire dal 29 marzo presso il nido ammaturo alle ore 16 partirà il primo degli incontri dedicati ai primi e mille giorni di vita dei bambini che è una finestra temporale che parte dal concepimento per arrivare fino al compimento del secondo anno di vita che rappresenta una dimensione all'interno della quale si consolidano degli stili di vita, delle abitudini e delle capacità e delle abilità che i bambini poi porteranno con sé lungo tutto l'arco della vita. Noi abbiamo scelto di focalizzarci su tre dimensioni, l'allattamento al seno che è fondamentale e dell'alimentazione nel corso della gravidanza, dell'alimentazione e dello svezzamento dei bambini proponendo un modello di autosvezzamento che è un modello ancora poco utilizzato ma invece che consolida delle ottime abitudini alimentari e poi sulla lettura ad alta voce. All'interno dei nostri nidi accoglieremo tutte le mamme, tutte le famiglie che vorranno incontrare i nostri esperti sono invitati a partecipare a questi incontri che sono aperti, c'è un calendario a partire dal 29 marzo per poi proseguire fino alla fine di giugno.